Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di What The End Arriviamo a 1500 like, condividete il video, iscrivetevi al canale di 6 nuovi, lasciate il hashtag WhatTheEnd qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E andiamo avanti con la puntata Vi ricordo anche di passare dal gruppo facebook WhatTheEnd Italia per rimanere sempre aggiornato su nuovi promo code e nuovi aggiornamenti Infatti oggi andiamo a prendere i promo code di Ciccio e facciamo sempre il solito Grazie Ciccio perché effettivamente questa volta hai dato un po' più gemme e sono sempre comodi a tutti i nostri piccoli che ci seguono giustamente Quindi andiamo a prendercele immediatamente ragazzi Il primo promo code che andiamo a prendere è quello di Ciccio Gamer che è un chiaro riferimento a Warcraft ragazzi For The World penso che lo conosciate tutti Se non lo conoscete andare a cercare Warcraft ragazzi perché è veramente una cosa da vedere Io ci sono cresciuto World of Warcraft quindi vi dico tutto Allora vai, invio codice Andiamoci a prendere 50 puzzi e 100 gemmine che non sono per niente male ragazzi Poi andiamo a prendere il secondo promo code invece che ce lo dà WhatTheEnd stesso Che è Sciamanito ragazzi, Sciamanito Sciamanito ci dà 5 puzzi E adesso andiamo a prenderci la povertà Non erano puzzi, erano luzzi quelle che ha dato i 5 Quindi lasciamo stare che sto bello storto oggi Allora vai, andiamo a prendere la nostra bella povertà perché ci piace tanto Forziere gratuito perché ci piace vai, daccelo su Ho cliccato, devo cliccare proprio al centro perché se no sa rabbia Monete, cappalla 3.0, un fulmine comune, un gio sotto qualunque niente male Niente male, ce n'ho talmente tanti che non l'ho mai utilizzato Monete, vai così, 50 monete fanno sempre comodo 10 gemmine gratis che non sono per niente male, vai così E visto che oggi mi voglio divertire ci andiamo a prendere l'offerta del giorno Il forziere hog Speriamo che non esca proprio l'hog ma ne esca qualcos'altro Vediamo un po' Mo esce precisamente due hog sicuri al 100% Due hog sicuri al 100% Sinceramente, wow Che non lo utilizziamo ma più avanti probabilmente con i pvp sarà da utilizzare Sapete che vi dico? Me ne prendo un altro e mi potenzio log ragazzi Esageriamo Due Lorenzio Granchias Mi stai prendendo in giro E ci apriamo una bella cassa argentata ragazzi Vai, monetine Golas Guardiano Un bel Harkinson Cupido che non utilizzeremo mai E un Ralf misterioso E una mano del dolore Qualcuno di voi mi ha detto Prova a usare una mano del dolore Perché rallenta sul terreno Non è che mi interessi tanto ragazzi Perché alla fine con la Tornado vado a buttare tutto indietro E con la ghiaccia o blocco tutta a terra Quindi in mano del dolore non è abbastanza utile E adesso andiamoci a fare un po' di arena insieme ragazzi Oggi vi parlerò di una cosa che mi sta dando veramente fastidio su YouTube Anche perché tanto io non posso parlare di nessun argomento Perché mi mettono il bollino E adesso vi spiego perché Allora hanno introdotto una cosa diciamo quasi nuova ragazzi Che sta dando fastidio a molti YouTuber E non sta dando la possibilità di monetizzare completamente i propri video In che maniera? In pratica hanno creato un bot Uno script adattabile Che riconosce dei dettagli dei propri video di ogni canale Li vede e vede se sono adatti alla maggior parte degli inserzionisti oppure no Voi mi direte Mordug ma come riesce a farlo? Allora controlla vari dettagli del video Le cose più classiche che va a controllare alla fine sono il titolo e la descrizione Essendo uno script anche non troppo flessibile va a cercare anche nei sottotitoli automatici dei video Quindi se il Google Translator ha tradotto qualche parola in modo sbagliato potrebbe comunque darvi il bollino giallo Se vi ricordate ieri nella puntata di What then io ho parlato di un argomento specifico che non ripeto perché sennò si fa a salvare nei sottotitoli E magari mi fa diventare il bollino giallo anche su questo video e non mi piacerebbe per niente sinceramente Ok allora quell'argomento probabilmente dà fastidio a diversi inserzionisti Oppure ho parlato non troppo bene del determinato argomento Non è piaciuto agli inserzionisti e mi hanno messo il bollino giallo Però è una cosa automatica quindi neanche lo sanno loro effettivamente È stato il bot in automatico Perché non è stata una richiesta manuale del bollino giallo ragazzi Si può fare richiesta per lo sblocco ma ci vogliono diversi giorni In quei diversi giorni noi youtuber abbiamo perso tutte le monetizzazioni che avevamo Quindi diciamo che è abbastanza brutta come situation Specialmente per i canali grandi che delle volte si vedono dei video da più di 50-100.000 visualizzazioni Che gli fanno 30-40 centesimi Calcolando il tempo, le cose che fanno, i prodotti che hanno dovuto acquistare comunque per poter fare quel determinato materiale È un problema abbastanza grosso potrei dire E effettivamente andarmi a mettere un bollino giallo sopra a un prodotto di attualità mischiato a un gioco che facciamo sempre è abbastanza stupido E un'altra cosa che vi voglio spiegare I video hanno una caratteristica particolare Se le pubblicità vengono viste da diverse persone e ci sono presenti nel video Il video viene messo in posizione più alta possiamo dire Se non ci sono, no Alla fine i video lavorano nei primi due giorni Al terzo cominciano a fermarsi definitivamente Se avviene questa cosa del bollino giallo ci vuole quasi una settimana per la revisione normale E questi bollini gialli mi sono arrivati in video vecchissimi ragazzi, vecchissimi Una delle murder, uno dei motivi per cui non possiamo portarla Addirittura questo script strano è riuscito a andarmi a colpire Un vlog che abbiamo fatto di gruppo dove dicevamo cosa avrebbe pensato la gente di noi al nostro funerale Una cosa forse un po' magabra ma veramente non pensavo potesse essere fuori dalle norme In più tutti i video che ho fatto di COD, di corsa alle armi che era una cosa semplicissima Sono diventati gialli, per fortuna erano vecchi e fermi Però comunque dà abbastanza fastidio Anche perché bisogna arrivare almeno a mille visualizzazioni nella settimana sul video specifico Per poter fare richiesta Se non la richiesta non va in porto Quindi vuol dire che quel video determinato rimarrà giallo Perché voi penserete questa cosa dei bollini gialli non va ad intaccare noi che vediamo il canale E invece è tutto il contrario Perché se io non posso mettere un video di COD o di murder Voi rimanete malissimo perché quel prodotto lo volevate sul canale Morder qualcun altro me l'ha richiesto Minecraft qualcun altro me l'ha richiesto Ma se io faccio un video di murder e poi mi viene il bollino giallo sul canale Effettivamente non è per niente un'ottima situazione Quindi io eviterò determinati argomenti e giochi perché possono creare questo Diciamo che questo più che un parliamo di attualità Che però alla fine è attualità su YouTube È una cosa da sfogo perché effettivamente mi sta dando fastidio ultimamente Che sta capitando anche a me e spesso Ah lo script ha un'altra caratteristica molto simpatica Riesce a riconoscere all'interno del video la quantità di rosso E se c'è troppo rosso vuol dire che ci stanno cose sbagliate E un'altra cosa molto simpatica La maggior parte dei blog fatti esclusivamente con la webcam Potrebbero essere riconosciuti in modo erroneo dallo script Come contenuti di nudo Ma io dico invece di fare tutti questi aggiornamenti abbastanza anche inutili e fatti alla cavolo Perché non aggiornate cose migliori? Ma io mi chiedo perché YouTube invece di fare questi aggiornamenti abbastanza inutili Non mi vai a sistemare a di block? Un bel block come ha fatto Aranzulla sul suo canale così almeno guadagnate di più Ok ragazzi penso di essermi sfogato abbastanza con questo video Allora vi ho parlato dei bollini gialli e di YouTube Non metterò nel titolo appunto il motivo di questa cosa Perché sicuramente lo script automatico riconosce che parlo di lui E poi dopo si arrabbia quindi non lo vogliamo Abbiamo preso due promo code uno di Ciccio e uno di WhatDen diretta Abbiamo preso due casse che davano due leggendari a capoccia Abbiamo fatto un po' di arene insieme Quindi penso di essere soddisfatto per oggi Quindi arriviamo a 1500 like Condividete il video Iscrivetevi al canale dei suoi nuovi Lasciate il hashtag WhatDen qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino e ci vediamo alla prossima puntata